ciao a tutti io sono la dottoressa carlo tagnavi farmacista e naturopata oggi parliamo del caffè perché tantissimi miei clienti durante le consulenze mi chiedono al caffè posso continuare a berlo e meglio di no fa male fa bene perché effettivamente sul caffè c'è una grandissima confusione allora ho pensato di fare questo breve video per dirvi un po il mio pensiero ovviamente alla luce dei numerosissimi studi scientifici se noi ci mettiamo a cercare su pubmed piuttosto che sui motori di ricerca scientifici il numero di articoli sul caffè è veramente impressionante gli studi sono partiti già nel 1986 però attualmente stanno aumentando considerevolmente effettivamente il caffè è una bevanda molto salutare per tanti per tanti aspetti perché il caffè è una bevanda ricchissima di antiossidanti e molto molto ricca di acidi fenolici e polifenoli possiamo dire che forse nel mondo industrializzato è una delle bevande più ricche in assoluto probabilmente insieme al carcadè però è molto più facile bere un caffè rispetto al carcadè nella vita normale no ed effettivamente i suoi aspetti benefici e salutari sono già stati dimostrati con migliaia di pubblicazioni scientifiche effettivamente è stato dimostrato che il caffè riesce a proteggerci e a limitare l'insorgenza di numerose patologie gravi tra cui il peggioramento di patologie croniche epatiche perché è stato visto che riduce notevolmente l'infiammazione del fegato sia in stati di steatosi che cirrosi piuttosto che in malati di epatite b o epatite c può prevenire il diabete di tipo 2 diversi tumori perché questo è già stato dimostrato ed effettivamente portare a un aumento della quantità di vita effettivamente e anche migliorarla però c'è un però il caffè non va proprio bene per tutti e lo vedremo più avanti se seguirete questo video ma qual è il vero meccanismo d'azione del caffè perché ci fa così bene sicuramente la sua azione antiossidante quindi antiradicalica e antinfiammatoria sono tra le azioni principali del caffè i suoi acidi fenolici sui polifenoli svolgono proprio un'azione di protezione cellulare ma pare che il meccanismo perché non è ancora del tutto chiaro perché in realtà nel caffè sono più di mille i composti attivi quindi bisogna ancora andare a fondo del sistema però pare che la chiave proprio del suo meccanismo sia l'attivazione di un fattore di trascrizione che si chiama nrf2 fattore di trascrizione nucleare eritroide 2 è abbastanza complicato questo nome che ha un'azione molto interessante perché attiva la trascrizione genica di alcuni enzimi citoprotettivi quindi che proteggono la cellula quindi stimola proprio la produzione di proteine che proteggono la nostra cellula la proteggono dai pesticidi dalle neurotossine e questo è stato dimostrato in diversi studi sul caffè e il parkinson perché la caffeina in questo caso è in grado di proteggere proprio i neuroni questo è stato dimostrato in vitro per il momento i neuroni dall'aggressione dei pesticidi e dalle neurotossine però in vivo su malati di parkinson è stato fatto uno studio molto interessante che ha dimostrato che l'assunzione di due tazze di caffè al giorno contenenti caffeina quindi non caffè decaffeinato ma caffè ha portato un miglioramento motorio già nell'arco di tre settimane questi pazienti sofferenti di parkinson quindi gli effetti del caffè anche su malattie molto gravi esistono attualmente stanno valutando ma parlo proprio di studi del 2020 se ci possa essere anche un'azione sul microbiota quindi su il nostro intestino da parte dei prebiotici che troviamo nel caffè però i dati sono ancora molto pochi e quindi non si sa se una delle sue azioni è anche a livello intestinale sicuramente il caffè lavora come ottimo stimolante del sistema nervoso perché perché la caffeina in questo caso proprio questa molecola è un antagonista della denosina allora la denosina che cos'è è un neurotrasmettitore è un neurotrasmettitore inibitorio quindi è un messaggero chiamiamolo così che nel nostro cervello porta un messaggio di riposo quindi la denosina si lega ai suoi recettori a livello cellulare e stimola il sonno ok quindi un neurotrasmettitore che ci fa riposare la caffeina è una molecola molto simile alla denosina quindi in grado di legarsi ai recettori della denosina ma a differenza della denosina che quando si rega si lega al suo recettore lo attiva la caffeina si lega al recettore della denosina e lo blocca bloccando i recettori della denosina permette l'azione del glutammato e della dopamina che sono dei neurotrasmettitori eccitatori e quindi ci permette di avere una maggiore vigilanza una maggiore lucidità mentale ci permette di avere migliori performance sia fisiche che cognitive perché effettivamente lo sappiamo tutti quando c'è da studiare quando c'è da lavorare un caffè ci permette di essere molto più sul pezzo diciamo in modo giovane no quindi la caffeina ci aiuta da questo punto di vista però ricordiamoci che la caffeina viene metabolizzata in circa 6 barra 12 ore quindi se noi prendiamo una bella tazza di caffè dopo cena è possibile che questa poi vada a influire anche sul sonno logicamente perché attivando questa maggiore vigilanza rischiamo poi di non dormire quindi il mio consiglio è sì di bere il caffè a meno che ci siano patologie particolari di cui dopo vi parlo però possibilmente nella prima parte della giornata sappiamo anche che non tutti metabolizzano la caffeina allo stesso modo addirittura la donna nel suo ciclo mestruale quindi nei suoi 28 giorni in certe fasi la metabolizza un po più velocemente in altre un po più lentamente oppure le donne che assumono la pillola anticoncezionale ci impiegano molto più tempo quindi addirittura il doppio rispetto all'elaborazione normale della caffeina mentre il fumatore la metabolizza molto più velocemente addirittura nella metà del tempo e questo pare che possa essere uno dei motivi per cui i fumatori bevono più caffè ricordiamoci che la caffeina comunque crea dipendenza quindi non dobbiamo assolutamente abusarne alcuni studi hanno dimostrato che il dosaggio raccomandato sarebbe intorno alle 4 o 6 tazze al giorno però io suggerisco al di sotto dei 50 anni 55 di non superare le quattro tazzine al giorno perché altrimenti questi effetti benefici potrebbero perdersi e invece andare incontro ad effetti negativi ovviamente ci sono delle situazioni in cui io il caffè non lo raccomando ad esempio se soffriamo di reflusso gastroesofageo perché bevendo il caffè il reflusso potrebbe peggiorare quindi se soffriamo di reflusso gastroesofageo piuttosto optiamo per il tè piuttosto che il caffè decaffeinato è stato visto che non è la caffeina causare il peggioramento del reflusso perché in un test in cui hanno messo la caffeina nell'acqua e hanno dato a soggetti con il reflusso questa soluzione da bere questa non è non ha causato il reflusso però è stato anche visto che il caffè decaffeinato questo peggioramento non lo provoca quindi piuttosto utilizziamo il decaffeinato mentre per quanto riguarda persone che soffrono di glaucoma oppure hanno familiari che soffrono di glaucoma piuttosto che pazienti epilettici il caffè sarebbe meglio non berlo perché in genere hanno un netto miglioramento con l'astinenza dal caffè ovviamente non lo consiglio anche a chi soffre di insonnia e a chi tende a essere un soggetto particolarmente ansioso in realtà il caffè non provoca l'ansia però aumentando la soglia di vigilanza se siamo già un po borderline sarebbe meglio evitare anzi ne approfitto per dire che c'è stato uno studio anni fa interessante dove è stata dove è stata somministrata la caffeina a dei topini ad un gruppo è stata somministrata prima 14 giorni prima di un periodo di forte stress al secondo gruppo è stato invece somministrata questa caffeina solo durante la fase di stress bene è stato visto che il gruppo di topini a cui è stata somministrata la caffeina nei 14 giorni precedenti e durante lo stress questo gruppo è riuscito a gestire lo stress molto meglio quindi ha aumentato la capacità di resilienza potremmo dire di questo gruppo di topini quindi effettivamente il caffè non va a peggiorare lo stato di ansia però se la caffeina è troppa assolutamente sì oppure se abbiamo una crisi di astinenza caffeina allora possiamo avere mal di testa irritabilità ansia nervosismo però bisogna sempre vedere la propria dose ognuno di noi è diverso quindi valutiamo se notiamo che la caffeina non ci fa bene siamo chiaramente in grado di dire no magari vado su un'altra bevanda antiossidante come ad esempio il famoso carcadè piuttosto che un tè verde mentre per quanto riguarda la fibrillazione atriale anche lì è stato visto che no il caffè non causa un peggioramento di fibrillazione atriale quindi anzi in dosaggi logici quindi parliamo delle due tazzine al giorno addirittura può avere un effetto benefico e preventivo proprio per del benessere del cuore quindi no ecco però se soffriamo di reflusso di insonnia di glaucoma piuttosto che patologie tiroide valutiamo perché magari il caffè non fa proprio per noi spero con questo breve video di avervi dato un consiglio utile se così mi raccomando condividete questo video con i vostri amici con le persone a cui volete bene e se non siete iscritti al canale mi raccomando fatelo qui sotto così ci vediamo al prossimo video e se vi è piaciuto mi raccomando un like un bacio ciao